ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato al mido ocean star mido ocean star da 39 mm che è uscito recentissimamente perché è l'ottantesimo anniversario della famiglia ocean star che prevede un sacco di modelli anche questo qua ci togliamo subito l'acqua dal vino o le castagne dal fuoco no come si suol dire ecco qua l'orologio del giorno il mio mido ocean star gmt detto anche shark quello con gli indici a dente di squalo questo qua è simpaticissimo gmt 200 metri di impermeabilità perfetto lo uso quest'estate col nato anche se ha un bel bracciale dicevo io questo orologio qua l'ho visto in premier a marzo del 2024 quando hanno mostrato la collezione così per la stampa l'ho visto l'avevo già ad occhiato e avevo pensato che sarebbe stato un successo è una bella nuova entrata nella famiglia ocean star perché si va verso il downsize tutti diminuiscono le misure mancava l'ocean star quindi questo 39 mm farà la felicità di molti e ricevo che è molto larga questa collezione ocean star si va dai 44 mm del 600 metri poi c'è il gmt quello anche lui da 44 mm c'è questo gmt qua c'è l'ocean star da 42 il world timer che ho recensito ci sono due versioni di world timer insomma ocean star è la collezione di maggior successo di mido quindi si meritava questa new entry che è realizzata in quattro colorazioni al momento tutte braccialate bracciale in acciaio quella blu e nera che ho preso io in prestito quella grigia e nera quella color oro diciamo e quella totalmente nera in pvd 4 4 versioni che poi vedrete si allargeranno sicuramente l'orologio mi è stato messo dall'amico giacomo che è titolare della gioielleria pasquale domenici di viareggio che parte un ufficiale del canale e mette a disposizione tutto ciò che voglio e io l'ho scelto perché mi piace perché rientra nei miei gusti e da un po da da marzo che lo volevo portare sul canale finalmente ci sono riuscito tra l'altro pasquale domenici è concessionaria del marchio quindi io offro un trattamento di favore a voi che state guardando il video ora detto questo non so più cosa dire l'orologio avrà sicuramente delle luci e delle ombre ma questo poi lo vedremo nelle conclusioni finali quindi adesso giriamo la camera diamo un'occhiatella al mido ocean star 39 mm e poi ci troviamo qui come al solito per le considerazioni finali iniziamo come di consueto con il riportare ciò che ci raccontano le fredde misurazioni diametro cassa 39 mm spessore 10.4 ingombro trasversale al polso 45.8 mm e interasseanza da 20 mm anche mido si tuffa nel downsize imperante proponendoci una versione dell'ocean star che sorprende in positivo soprattutto per quanto riguarda le proporzioni si fa presto a ridimensionare un orologio mentre meno semplice è mantenere la corretta scala rispetto ai modelli maggiori qui si è riusciti in tale obiettivo grazie all'esiguo spessore di 10.4 mm un risultato piacevolmente sotto alla media che convince e avvince quindi per una volta iniziamo dal lato b che è il responsabile del contenimento delle dimensioni intanto stiamo parlando di un diver 200 metri specifica che è sempre ben tenere presente quando si disquisisce sugli spessori delle pareti in secondo luogo occorre notare il sistema di fissaggio del fondello cieco si è optato per 5 viti singole soluzione che consente di risparmiare qualche decimo rispetto all'avvitamento integrale e senza andare ad inficiare le 20 atmosfere di resistenza tutto ciò ha permesso di realizzare una cassa più sottile nella quale però occorreva inserire un calibro meno spesso del classico caliber 80 barra powermatic 80 e la soluzione è arrivata con l'utilizzo del caliber 72 che altri non è che il movimento eta a 31.11 evoluzione del 28 92 che di per sé è uno dei più sottili calibri automatici di larga scala in circolazione per intenderci sono gli stessi calibri utilizzati dai cugini di gruppo longin sicuramente un bel salto di qualità in casa mido anche perché si tratta di un meccanismo che di base parte dalla versione elaborate e quindi risulta maggiormente rifinito curato e con componenti di miglior qualità rispetto ad una qualsiasi versione standard le finiture prevedono cote de geneve sul rotore perlage sui punti e viti azzurrate mentre per quanto riguarda le specifiche ci troviamo di fronte ad un bilanciere senza racchetta di regolazione con spirale libera realizzata in ivacron ultimo ma non ultimo la regolazione della precisione di marcia che viene effettuata su quattro differenti posizioni una descrizione capillare che però non può essere verificata in quanto il fondello risulta essere cieco una soluzione che a molti farà piacere e che restituisce un aspetto più serioso all'intero orologio al polso appare in tutta la sua compostezza contenuto sottile quasi elegante un orologio sicuramente sportivo ma che non mira ad essere l'attrezzo da lavoro professionale non vuole essere un tool watch lo si vince anche dall'assenza delle spallette di protezione corona il fine è quello di emulare lo spirito vintage dei primi diver utilizzando contenuti al passo con i tempi una forma cassa semplice ed essenziale con ansie tronche che terminano con un taglio netto e la cui finitura generale vede una sottile spazzolatura che pervade ogni singolo centimetro disponibile da notare che osservando di lato è possibile notare un sottile bisello lucido che avvolge tutto il lato carrur sopra in corrispondenza del termine ans e nella parte inferiore laddove si raccorda al fondello insomma una generale opacità dell'acciaio che viene ripresa anche dall'inserto ghiera in alluminio materiale che si discosta dalla corsa alla lucentezza ultimamente promulgata dagli inserti in ceramica in tugsteno o in zaffero diciamo che strizza più l'occhio al passato portando con sé il minus del rischio di una usura precoce questi è inserito in una ghiera girevole unidirezionale a 120 scatti la cui rotazione prima di qualsivoglia intoppo e la cui unica colpa è quella di avere una grafica che non brilla per originalità si tratta di un fonte alquanto canonico che non fa nulla per discostarsi dalla sensazione di déjà vu avrei preferito qualcosa di differente ma comprendo anche che inventarsi per forza qualcosa di nuovo a volte può essere controproducente particolare invece la scelta di dividere orizzontalmente la colorazione con il semicerchio inferiore blu e quello superiore in nero lo scopo che è bene chiarire esula da qualsiasi motivazione tecnica è quello di riprendere il gioco cromatico presente sul quadrante in modo da avere la stessa configurazione ed un insieme percepibile come totalmente diviso la differenza principale che sul quadrante il passaggio tra i due colori è senza soluzione di continuità un degrade che va ad imitare il colore del mare in base profondità mettendo in mostra un gioco di trame che riprendono il fondale sabbioso ondulato che viene modellato dalle onde accattivante ed apprezzabile lavorazione che ritengo un piccolo valore aggiunto sia per pregio di lavorazione che per effetto ottenuto risulta a finitura opaca e va ad aumentare sensibilmente la sensazione di tridimensionalità dell'insieme costituito da quadrante indici e vetro zaffero piatto risulta evidente la ben percepibile profondità degli elementi laddove anche gli indici svolgono la loro parte essendo applicati in un secondo momento e risultando ben sporgenti rispetto al fondo ondulato discorso a parte per le scritte che sono anch'esse in rilievo ma ottenute tramite pressione a conio operazione più economica e che richiede meno passaggi di lavorazione appare ben chiaro che la leggibilità del quadrante stesso giova del forte contrasto tra accenti principali e sfondo nero blu è possibile comprendere l'orario da qualsiasi angolazione senza alcuno sforzo tutto ciò che è realizzato in superluminova è poi contornato da una sottile cornice metallica siano esse lancette o gli indici tondi e proprio in quest'ultimi il bordo lucido tende a mimetizzarsi con il fondo e a scomparire ciò che ne deriva è che al colpo d'occhio si percepisce un indice tondo apparentemente sottodimensionato in talune situazioni mi appare consono alle dimensioni compatte dell'orologio in altre mi sembra lasciare il quadrante un poco vuoto lo stesso effetto che mi faceva il nuovo hydro conquest di longina appena uscito sensazione che ho poi metabolizzato e superato diciamo che è una scelta stilistica volta a ingentillire l'aspetto generale del quadrante senza però inquinare la corretta visione degli stessi anche in assenza di luce si vede chiaramente che tutti gli elementi necessari rispondono positivamente compreso il dot sulla ghiera e il lollipop della sfera a secondi non resta che dare uno sguardo al bracciale che a prima vista potrebbe apparire un poco anonimo in effetti nel design non sembra esserci nulla di particolarmente originale il classico bracciale a tre segmenti indipendenti completamente spazzolato e di eccellente qualità se non fosse per la maglia centrale che smuove un po le acque presentandosi rialzata rispetto alle due laterali e decorata con un bisello lucido su tutti e quattro i lati una soluzione che apprezzo e che va a riprendere quelle poche parti lucidi presenti sulla testa quali la faccia della corona la zingrinatura ghiera e gli smussi carur tra le altre cose non gli si può neppure imputare il rischio di evidenziare graffi essendo di superficie contenuta e posta solamente al centro del bracciale per quanto riguarda la chiusura deployant singola troviamo tutti gli elementi in linea con la qualità di mido cerniera interna ben dimensionata e robusta scatoletta satinata con biselli lucidi e prolunga automatica per regolare la lunghezza del bracciale quest'ultima sarebbe intesa come utilizzo per indossare l'orologio sopra gli indumenti ma nulla vieta di usarla per modificare la misura al volo possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali orologino di tutto rispetto ragazzi ora io non l'ho detto mi sono dimenticato di dire che i pin per la rimozione delle maglie sono a pressione e che sono presenti le spring bars per sgancio rapido quindi è possibile rimuovere il bracciale in un battibaleno e metterci un cinturino aftermarket anche in silicone perché ora al momento di originali suoi non ne sono previsti e secondo me vedrete usciranno anche le versioni con il cinturino in silicone che tanto fa estate e tanto ci piace orologio promosso perché a questo prezzo questo calibro che c'è dentro ragazzi è abbastanza superiore rispetto al solito che in casa mido poi la sottigliezza la qualità la portabilità e la leggibilità sono tutti tutti elementi che vi ho mostrato e vi ho fatto vedere punti negativi non ce ne sarebbero se non che il fatto della ghiera in alluminio che secondo me questa è la mia speculazione allora la ghiera in alluminio lo sapete è facilmente graffiabile rispetto al ceramica o al vetro zaffer secondo me hanno scelto di farla in alluminio perché è una scelta forzata forzata perché la ghiera ceramica di due colori solitamente è più difficile da fare ma lo vedete anche ho visto anche per esempio i rotary ma una marchio inglese tutti i diver che ha con la corona con la ghiera di un solo colore è in ceramica dove è bicolore non è in ceramica è in alluminio perché è più difficile da fare ci sono maggiori scarti soprattutto anche perché essendo il quadrante di due colori differenti è difficile poi azzeccare con la ceramica il punto di blu esattamente uguale a quello del quadrante della parte sottostante quindi ci sarebbero tantissimi scarti no questa non va bene via questa non va bene via aumenta il costo capito quindi in alluminio è più semplice trovare il punto di colore e farla bicolore questa è una mia speculazione detto questo un altro punto magari debole che potrebbe a qualcuno non piacere è il fatto delle onde sul quadrante è molto tridimensionale bello è bello a vedersi a una certa profondità il fatto è che si può rischiare di può rischiare di stufare dovete dovete decidere bene prima si potrebbe darvi fastidio alla lunga questa tridimensionalità queste onde non sono onde la sabbia è il fondale sabbioso del mare che fa questa specie di onda ora devo anche dire che è fatto bene è fatto bene perché solitamente quando si fanno questi giochi tridimensionali sul quadrante si rischia di andare nel plasticoso spesso accade non spesso a volte accade ma a parer mio quelli che riescono migliore a fare i migliori quadranti stropicciati diciamo tridimensionali graffiati sono i secco i secco quando c'erano questi quadranti qua sono perfettamente comprensibili e non danno quel fastidio qua è fatto bene anche questo diciamo non tanto quanto è secco perché è un po più grossolana sono più larghe sono più larghe le le onde no poi per il resto ragazzi vi ho già detto fondello chiuso come tutti ci si aspetterebbe da un bel diverino di questo tipo qua 39 mm spessore portabilità regolazione rapida del della class è sicuramente un best buy anche poi poco più di 1000 euro poi voi andate l'amico giacomo ditegli che vi mando io vedete che un pochino qualcosina vi toglie secondo me si va si arriva anche sotto i mille a essere essere bravi da ragazzi per me promosso questo orologio lo volevo portare sul canale secondo me questo assieme al tissue sister che è uscito recentemente però sul quale non ho ancora messo le mani sono i due orologini da 39 40 millimetri no compatti che potrebbero che hanno successo non è che potrebbero anche anche si sta della tissue sta vendendo un casino quindi i due orologi poco sopra i 1000 euro che sono sono perfetti io abbia messo sul piatto tutto ragazzi tutti gli ingredienti tutte le caratteristiche tutto quello che vi pare poi la vostra scimmietta deve decidere un po se gli garba o se non gli garba se vedete che avvicina la mano così senza nocciolina l'avvicina così per fare così poi non c'è la nocciolina vuol dire che vuole l'orologio se invece se sta ferma così cosa difficile di questi tempi vuol dire che non gli garba adesso ragazzi vi saluto io vi ho fatto vedere l'orologio tutti gli ingredienti sul piatto quindi decidete voi e fate vobis fate come vi pare non mi resta che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao